Si è insediata nei locali di Palazzo Fici la Governance, nominata dal sindaco Massimo Grillo. È composta da 14 esperti, tra questi anche l'Alcamese e Gianluca Binanti, per tanti anni assessore allo sport, al comune di Alcamo. I professionisti, chiamati a collaborare con l'amministrazione comunale, presseranno la loro opera a titolo totalmente gratuito. La Governance è una struttura di supporto tecnico all'aggiunta ad alto contenuto di professionalità. Sono molto contento di potermi avvalere di queste competenze, di queste professionalità che assolutamente a titolo gratuito consentiranno di dare quel supporto ulteriore in termini di competenze, di professionalità, di esperienza al servizio dell'amministrazione. Io credo che avremmo davvero da vantarci e una squadra da invidiare perché effettivamente saremo nelle condizioni di poterci avvalere per la programmazione, sugli aspetti strategici, sulle questioni che riguardano i finanziamenti, di poterci avvalere di queste importanti competenze. Ecco, io credo che assieme a quello che rappresenta oggi la Giunta Young come organismo innovativo, con i risultati faremo parlare di noi, al di là di ciò che si può pensare. Tengo a precisare che anche in questo caso non c'è alcun centesimo che l'amministrazione spendere in più, avremo soltanto un'entrata di contributi, di sostegno, di supporto. L'unico esperto a titolo oneroso, il dottore Briante, che è stato da me nominato, in pochi mesi ci ha fatto recuperare ben 5 milioni di euro che erano stati dispersi e avevamo perduto di fatto con una gestione improvvisata della precedente amministrazione. Per cui attraverso questo supporto, con la capacità di mettere ordine, siamo riusciti già con un esperto a trovare delle risorse che impiegheremo in un settore strategico come quello dei servizi sociali, dell'inclusione sociale, delle povertà. 5 milioni di euro sono tanti, recuperati in pochi mesi. Spero che altrettanto si potrà fare con l'apporto a titolo gratuito di questi amici che hanno offerto questa disponibilità e che dovremmo davvero ringraziare per questa loro manifesta attenzione verso la mia amministrazione. È una gratitudine che spero si possa tradurre anche in azioni concrete, così come è già avvenuto per alcuni di loro che hanno consentito di raggiungere dei traguardi, così come avremo modo di spiegare nei dettagli.